o per il pensiero non si riuscirà a un'altra informazione. Sì, solo mantenete la concentrazione in un periodo di sconestità, potete aprire la luce. Ora possiamo anche percepire qual è il prossimo passo da fare, ad esempio, ora che percepiamo questa luce di fronte a noi, per mantenere questa concentrazione, possiamo iniziare a spingere questa luce in avanti, verso l'infinito, e così questa luce si espande, si apre ancora di più. Quindi abbiamo trovato una soluzione positiva e ora il compito è quello di trattenerla, di mantenerla. E così vediamo anche la soluzione, lo sviluppo degli eventi sotto forma di un raggio che va dall'infinito. sono quindi noi così vediamo questo raggio dello stato ideale effettivamente che va verso l'infinito per esempio questo raggio esce da noi e vediamo anche questa luce che abbiamo percepito prima che continua ad andare in avanti, la spingiamo a volte dobbiamo anche applicare lo sforzo di volontà per spingerla, per spingerla eccetera e quindi in questo caso non percepiamo la norma percepiamo soltanto lo stato ideale, perfetto ok, questo è il punto di vista di sveglia e luce, riduce in discontinuity, ora ripostiamo un po' di sveglia sul luce in un'arrivina di sveglia così portiamo questa luce in avanti vediamo il raggio che parte da noi che va verso l'infinito quindi è così per esempio abbiamo visto questo raggio partire che va verso l'infinito io ho detto che parte dal corpo ma in realtà parte dallo spazio del pensiero da questa luce verso l'infinito ma in realtà non è un errore è sempre il nostro pensiero può anche partire da noi ma più preciso sarebbe vedere come questo raggio parte da questa luce nell'area del pensiero e quindi così per esempio abbiamo detto che il nostro pensiero lavora esattamente come dispositivo cioè trova subito immediatamente la luce della norma quindi c'è questo raggio sì che percepisce che va verso l'infinito giusto vediamo questa luce che scende al livello lombare e poi vediamo come questa luce che si apre di fronte a noi ha un colore azzurro è un colore azzurro chiaro chiaro per esempio a un certo punto possiamo percepire che diventa azzurro вот это восприняли? come va? riesci a percepire questa luce azzurra? sì sì смотрите come è come получается da noi in своем мышлении вычленили come прибор мышления sработало вычленили la componente норм дальше у нас задачa non 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 выдержали луч и уже душа открыла пространство уже как прям сектор голубого света открыл но così per esempio con nostro pensiero abbiamo individuato questa luce quindi pensiero la nostra percezione ci permette di scoprire questo spazio vediamo questo raggio che va verso l'infinito in realtà è lo stesso che fa anche il dispositivo continua scendere e a un punto arriva al livello di bacino arriva al livello dell'osso sacro e quindi può anche cambiare il suo colore e percepiamo anche che non solo sta scendendo attraverso il nostro corpo ma che sta anche recuperando ricostruendo completamente il nostro corpo noi non stiamo facendo niente di complicato solamente tratteniamo la concentrazione sulla norma che abbiamo percepito prima e osserviamo come avviene lo sviluppo ora possiamo percepire una specie di apertura nell'area del cuore e quando si apre così dall'alto dal creatore ci arriva un flusso molto forte di luce noi possiamo sentirlo così in modo molto facile semplice così nel nostro pensiero troviamo la norma che abbiamo trovato prima e vediamo poi che arriva il flusso dall'alto che sarebbe la luce del creatore bisogna concentrazione quindi questa norma che stiamo percependo da questa norma come abbiamo detto prima parte il raggio che va dall'infinito e vediamo come si sviluppa questo raggio forse si apre una luce diversa di di un colore diverso eccetera questa luce per esempio è la luce anche divina e ci fa scoprire le cose più divine per esempio più belle ideali questa luce ci fa scoprire queste cose e quindi la luce che arriva dal creatore si abbina si attracca alla nostra anima per esempio alla luce dell'anima che si trova nel centro del corpo così tratteniamo questa luce che entra dall'alto dal creatore e così vediamo che ecco questa è una bella forma questa è una bella norma che non abbiamo trovato e vediamo ulteriormente questo sviluppo favorevole a questo sviluppo positivo удержivate concentrazione concentrazione e e vediamo come dal corpo parte la luce che va in alto attraverso la colonna vertebrale a e vediamo che nello spazio del pensiero c'è questa luce della norma poi come abbiamo detto prima da questa luce della norma per il nostro obiettivo parte la luce che va finito e vediamo come questo appare come noi lo vediamo come questa luce poi che si sviluppa come come si presenta e voto di gialli ma concentrazione guarda ver show svetta d'usci e ciò smogli di ciò stavate come butta mica attacco a napri genia vermi c'è sti gala vittipa già apprezzato e noi abbiamo trattato da questa concentrazione possiamo vedere come dalla nostra anima anche parte la luce possiamo percepire questa salita della luce che va in alto attraverso il nostro attraverso il nostro corpo e quindi così tratteniamo la concentrazione a un certo punto vediamo che da noi dalla nostra testa mandiamo un impulso un raggio dal creatore in alto avviene subito così mandiamo la luce del creatore la mandiamo in alto e quindi va in alto noi così vediamo quindi il creatore essendo in questa luce quindi quando iniziamo a fare questa concentrazione a volte può essere non facile perché dobbiamo costantemente mantenere questa concentrazione però appena inviamo questo impulso in alto possiamo anche percepire una specie di rilievo poi diventa un po' più facile ma anche perché vediamo questo calo questa luce e quindi la luce attraversa il nostro corpo le braccia possiamo anche percepire questo calore questa luce nel viso eccetera e attorno all'area di ipofisi possiamo percepire una luce molto bella che lo circonda possiamo percepire una luce quindi possiamo anche percepire che grazie a questa luce che circonda quella zona nel nostro cervello la luce che abbiamo davanti cioè la luce che va verso l'infinito forse si apre in un colore diverso ora forse potete sentire anche il controllo che avviene nell'area della giandula tiroidea grazie a tutti